Musica Buongiorno, ben ritrovati negli studi di TG2000 Cominciamo subito con i nostri titoli Discoteche chiuse, mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6 Soprattutto nei luoghi della movida estiva Lo ha deciso il ministro Speranza dopo la significativa ripresa dei casi Test rapidi negli aeroporti Gli scali italiani si preparano a Fiumicino Lunghe file per sottoporsi al tampone Obbligatorio per chi rientra dai paesi a rischio Emerso un ragazzo positivo tornava da Malta Giornata di sciopero generale in Bielorussia La piazza rilancia la sfida a Lukashenko Dopo la manifestazione che ieri ha riempito le strade di Minsk In 100.000 contro il dittatore che però non vuole lasciare E dunque calano i contagi Sono 479 i nuovi casi nelle ultime ore Ma è anche vero che complice il fine settimana festivo Sono stati fatti meno tamponi L'allerta resta alta Per chi rientra dai paesi a rischio Rimane l'obbligo del tampone Da effettuare o all'interno dell'aeroporto O nei presidi ospedalieri Alcuni aeroporti si stanno attrezzando proprio in queste ore Vediamo com'è la situazione in particolare Nello stalo di Fiumicino Lo facciamo in diretta con Silvia Sacchi A te Silvia Buongiorno Barbara È stato individuato il primo positivo Si tratta di un ragazzo proveniente da Malta Ed era stato positivo quindi al test È stato effettuato il test all'aeroporto qui di Fiumicino Si tratta quindi di un giovane A cui è stato avviato il contact racing attualmente Ed è in corso la notifica all'ASL abruzzese Il giovane è stato avvisato telefonicamente E è posto in isolamento Spieghiamo bene cosa sta succedendo Qui all'aeroporto di Fiumicino Siamo al terminal 3 Siamo agli arrivi Dove è stato allestito alle mie spalle Si possono vedere le 12 postazioni Con all'interno 120 operatori sanitari Capaci di accogliere fino a 480 persone Ci sono in coda i viaggiatori Che stanno aspettando di fare quindi i test nasofaringei Perché è partita da ieri La procedura come dicevi tu prima Per effettuare i tamponi direttamente in aeroporto a Fiumicino I primi passeggeri in arrivo dalle destinazioni a rischio Che sono quindi Grecia, Spagna, Croazia e Malta Hanno potuto così scegliere di fare il test in loco Appena sbarcati quindi vengono incanalati nell'area riservata A cui segue la registrazione dei dati personali E poi il tampone Ieri a fronte di 2000 persone rientrate dalle 4 destinazioni Sono stati effettuati 1000 tamponi Oggi invece sono partiti ufficialmente i test rapidi Che in 30 minuti dovrebbero restituire un risultato Abbiamo poi visto intervistando i passeggeri Che i tempi si sono delatati a causa delle code Le persone vengono poi mandate a casa in isolamento In attesa della comunicazione da parte dell'ASA per l'esito dell'esame E la procedura da seguire nei giorni successivi Le ricordiamo quali sono le modalità per il rientro della distanzione a rischio E al momento sono tre O si arriva con un test già fatto nelle zone Nelle 72 ore precedenti O lo si sceglie di fare quindi in aeroporto Oppure nei drive-in nelle 48 ore successive Intanto sono partiti i test rapidi anche a Ciampino In uno spazio ovviamente ridotto Mentre i test saranno replicati in questa settimana Anche negli scali di Linate e Malpensa Questa mattina sono già tanti i passeggeri che sono rientrati Che stanno effettuando l'esame Che stanno aspettando anche i risultati Noi li abbiamo fermati per chiedere loro quale fosse la situazione E li sentiamo ora Io stavo qui stamattina alle 8 E ci hanno fatto entrare verso le 10 Più o meno Poi ti fermi al primo box La prendono i dati e tutto quanto E poi vai direttamente a fare il test Il test è rapido però Hai già fatto il tampone? No ancora no Mi ho fidanzato sì l'ha fatto a Madrid Però io volevo aspettare arrivare qui Io stavo in Ibiza Ci abbiamo provato ma era tutto pieno E quindi avrei perso il voto insomma Sono stato a Creda 20 giorni tutto tranquillo Niente di che insomma tutto a posto Sono molto tranquilli loro Siamo noi un po' quelli che portiamo il dissesto E adesso qui a Fiumicino ha fatto già il test Sì sì adesso sto aspettando l'esito In mano hai appena ricevuto un risultato? Sì corretto Negativo Vedo la mascherina Ibiza Quindi vieni da Ibiza? Vengo da Ibiza sì Diciamo Sembra che ci sia L'isola è molto tranquilla Non c'era nessuno Era molto I locali erano chiusi Quindi come Diciamo che le opportunità di contagio Erano limitate comunque Questa dunque è la situazione a Fiumicino Ma visto che il virus continua a circolare Il ministro Speranza ha imposto nuove misure restrittive Facciamo il punto con Letizia Davoli Dopo la lieve ma preoccupante risalita dei positivi al covid registrata nelle prime due settimane di agosto Torna a scendere il numero dei contagi nel nostro paese Dopo il picco estivo di 629 casi di ferragosto infatti Ieri sono stati 479 nuovi positivi Ma va detto che sono calati anche i tamponi 36.807 quelli delle ultime 24 ore Contro i 53.123 del giorno precedente Continuano intanto a scoppiare piccoli focolai in tutto il paese E' il caso di un gruppo di 6 ragazzi romani rientrati da una festa a Porto Rotondo O di due vigili del fuoco del Piacentino Che avevano trascorso qualche giorno a Campobasso A Roma, alla casa di cura Ancele del Buon Pastore Dopo l'individuazione di 24 pazienti positivi Sono risultati positivi anche 8 operatori Alla luce dei nuovi dati legati in gran parte Al rientro delle vacanze E agli inevitabili assembramenti della Movida Il governo ha risposto con una nuova chiusura delle discoteche Dei locali al chiuso fino al 7 settembre E con l'obbligo delle mascherine anche all'aperto Dalle 18 alle 6 Quando non sia possibile mantenere il distanziamento Intensificati anche i controlli negli aeroporti Ma l'ordinanza del Ministero della Salute Che obbliga il tampone che rientra da Croazia Malta, Spagna e Grecia E applicata macchia di leopardo Bene Roma e Venezia Nessun controllo a Milano, Bergamo e Napoli Ma nessuna criminalizzazione né dei giovani né dei turisti Precise il governo L'obiettivo è contenere i contagi E arrivare alla riapertura delle scuole in tutta sicurezza Lo spettro di un nuovo lockdown è ancora lontanissimo La seconda ondata non esiste E' tutta nelle nostre mani Se noi capiamo, torniamo allo spirito del lockdown Quindi con un po' di pazienza Ci sottoponiamo anche a questi test Facciamo una cosa utile per tutti quanti i nuovi italiani Per me non è una situazione grave Siamo tra il 2,5 e il 5% che era già atteso E' un problema globale C'è in Italia come ci può essere in altre parti E appunto anche nel resto del mondo Il virus continua a circolare Viaggia in Europa Soprattutto con i turisti Ma l'Unione non chiude le frontiere E invita a limitare le restrizioni A circostanze eccezionali 294.000 i nuovi casi nel mondo Secondo l'OMS Si tratta del numero più alto dall'inizio della pandemia Allerta alta in Francia Che ha registrato un nuovo record giornaliero 3.310 nuovi contagi I territori di Marsiglia e Parigi In particolare rimangono zone critiche Il virus avanza anche in India Dove il numero totale dei contagi E' pari a 2,6 milioni Il paese è terzo nella classifica Di quelli più colpiti Spostiamoci adesso in Somalia Dove è di almeno 11 morti Il bilancio ufficiale delle vittime Dell'attacco all'Elite Hotel Sulla spiaggia della capitale Mogadiscio Attacco rivendicato dagli Al-Shabaab Il portavoce del governo somalo Su Twitter ha dato anche la notizia Dell'uccisione di 5 assalitori Tutto è cominciato con l'esplosione Di un'autobomba davanti all'albergo Poi un comando di uomini armati Ha fatto eruzione nella struttura Prendendo alcuni ostaggi Decine sono invece i feriti In Bielorussia adesso Il giorno dopo la manifestazione Contro Lukashenko Oggi è stato proclamato Lo sciopero generale Ma il dittatore spalleggiato da Putin Non ha alcuna intenzione di lasciare Marco Burini E adesso sciopero generale La piazza rilancia la sfida a Lukashenko E lo fa con uno strumento di pressione forte Perché segnala che l'opposizione è unita Contro il dittatore Che comunque non ha alcuna intenzione di mollare Forte del sostegno di Putin Ma la manifestazione di ieri Centomila persone per le strade di Minsk Tante per un paese di 10 milioni di abitanti Può rivelarsi il punto di svolta Per un paese che ha fame di democrazia E rifiuta il risultato delle elezioni Di settimana scorsa Non riconosciute dalla comunità internazionale 80% a Lukashenko E solo il 10% alla sfidante Svetlana Tikhanovskaya Che si dice pronta a prendere il comando Per calmare il paese Liberare i prigionieri politici E preparare al più presto Le condizioni legali Per organizzare nuove elezioni politiche La 37enne casalinga Candidata dal marito Sergei Tikhanovski Blogger e youtuber Tra i più noti oppositori di Lukashenko Arrestato a inizio maggio Ed escluso dalle elezioni E in esilio nella vicina Lituania Pronta a tornare Nel caso lo sciopero generale Che comincia oggi E coinvolge persino i dipendenti Della TV di Stato Mettesse alle corde Lukashenko Che è al potere da 26 anni E poco fa ha rifiutato nuove elezioni Ma Mosca potrebbe mollarlo Se le proteste di queste ore E l'attenzione della comunità internazionale Diventassero insostenibili E proprio al momento delicato Che sta attraversando la Bielorussia E ai suoi cittadini È andato il pensiero del Papa Ieri nei saluti ai fedeli Che hanno accompagnato la recita Dell'Angelus Dominicale Affido tutti i bielorussi Alla protezione della Madonna Regina della pace Ha detto Francesco Francesco che è sempre all'Angelus Ha voluto ricordare Anche coloro che a causa del Covid Sono senza lavoro Lo ascoltiamo Questi giorni Sono giorni I giorni di ferie Possano essere un tempo Per ritemperare il corpo Ma anche lo spirito Mediante momenti Dedicati alla preghiera Al silenzio E al contatto distensivo Con la bellezza della natura Dono di Dio Ma che questo Non ci faccia dimenticare I problemi Che ci sono Per il Covid In tante famiglie Che non hanno lavoro Che hanno perso il lavoro E non hanno da mangiare Anche le nostre pause estive Siano accompagnate Della carità E della vicinanza A queste famiglie E il Papa ha pregato Anche per il Libano Dove i cristiani Hanno voluto celebrare Nel modo che stiamo per vedere Il giorno dell'assunzione Si sono radunati Vicino al porto Devastato Di Beirut Mentre un'auto Trasportava Una statua Della Vergine Maria Durante una processione In mezzo alle macerie Evidentemente il filmato Che stavamo vedendo Era errato Ricordavamo Quello che è accaduto A Beirut Solo una settimana fa La deflagrazione Che ha appunto Distrutto L'area portuale Della capitale Libanese E' ucciso 137 persone Ed eccolo Il filmato Che ci racconta Quello che è accaduto Nel giorno Dell'assunta La processione Con la Madonna E i cittadini Con lei Torniamo adesso In Italia Una ragazzina Di 15 anni E' morta La scorsa notte Ad Arsignano Nel Vicentino Travolta Da un'auto Che poi E' fuggita A dare l'allarme Sono stati alcuni Passanti Che hanno visto Il corpo a terra La ragazza E' deceduta Prima dell'arrivo Dei soccorsi Secondo quanto Ricostruito dai carabinieri L'adolescente Stava camminando Sul ciglio della strada Quando è stata Falciata Alle spalle Gli investigatori Avrebbero raccolto Alcuni indizi Per risalire Al pirata Della strada E dunque Si avvicina Settembre Cambiamo argomento E con Settembre Emergenza sanitaria Permettendo Comincia anche La scuola L'anno scolastico 11 milioni di mascherine Al giorno E 50 mila litri Di gel Igenizzante La promessa Del ministro Dell'istruzione Per poter tornare Fra i banchi Siamo andati In un istituto Di Acireale Per vedere Come si stanno preparando David Murgia I cancelli delle scuole Si apriranno Per tutto il 14 settembre E la parola d'ordine Sicurezza E i plessi scolastici Si stanno organizzando Già a settembre Dovranno infatti Arrivare nelle scuole italiane Tra i 2 e i 4 milioni Di banchi nuovi Che sostituiranno Quelli antichissimi Banchi che dovranno Permettere Il distanziamento Richiesto Così da evitare Agli studenti Di utilizzare in aula La mascherina Inoltre Inoltre Secondo le norme Malate dal ministero Le aule Dovranno essere Rese agibili E ampliate Noi per questo Siamo andati In una scuola Di Acireale Per chiedere Se sono pronti Per iniziare Il nuovo anno scolastico Per quanto riguarda La possibilità Di fare scuola Utilizzando anche La didattica A distanza Sicuramente Sì Invece Quasi sicuramente Quello che Il nostro ministero Ci chiede Cioè Cominciamo subito Al completo Perché noi Oggi Non abbiamo Gli organici A distruzione Tranne i lavori Che possono essere Coperti Dagli importi Che ci sono stati Assegnati Molti I lavori rimanenti Se non ci aiuta L'ente locale Non possiamo fare niente Insomma Cose da fare Ce ne sono E il ministero Ha promesso Che le scuole Avranno a disposizione 11 milioni Di mascherine al giorno E 50 mila litri Al giorno Di gel Igenizzante Penso Che la scuola La nostra scuola Ce la sta mettendo tutta Per cercare Di Far trovare Agli alunni Un ambiente Quando più Tranquillo Sereno Possibile Sono infine Previste 97 mila Assunzioni Tra docenti E dirigenti E siamo alla vigilia Del meeting Di Rimini Il presidente Della Repubblica Mattarella Ha inviato un messaggio Al presidente Della fondazione Meeting Per l'amicizia Fra i popoli Cogliere il cambiamento Di cui l'Unione Europea È stata capace Nella risposta Alla pandemia E nel progettare La ripartenza E oggi la premessa Di un rilancio Dell'Italia Appunto Sono le parole Del capo dello Stato Che poi ha aggiunto Il nostro paese Ha dato prova Ancora una volta Delle sue energie Morali E civili E soltanto Nell'integrazione Nella solidarietà europea Può costruire Un domani Adeguato Per i suoi figli E sempre oggi Mattarella Ha voluto Ricordare Francesco Cossiga Lo statista morto Il 17 agosto Del 2010 Ricorrono Dieci anni Dalla sua scomparsa Era animato Da una grande Passione civile Da una fede robusta Rispettosa Del principio Di laicità Dello Stato Da una vasta cultura Che lui Seppe sviluppare Negli studi Nell'università Le parole Del presidente Della Repubblica E così Con questo ricordo Ci fermiamo Vi ricordo L'appuntamento Con TG2000 Oggi Alle 18.30 Buona giornata